Una soluzione alla fragilità dei sistemi agricoli in un'area, quale quello siciliano, tipicamente a clima semi-arido, sempre più interessato da temperature alte e mancanza di acqua. Con questo obiettivo è nato il progetto MixWeight, miscuglio evolutivo di frumendo per l'adattamento ai cambiamenti climatici, inserito nella sottomisura 16.1 sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura del PSR Sicilia 2014-2022, i cui risultati verranno presentati oggi martedì 28 maggio a Catania.